Sono più di mille anni che a Pavia si studia giurisprudenza e mille anni sono tanti. Naturalmente oggi si studia e si insegna in modo molto diverso. Tra l'altro da quest'anno c'è una novità. Da anni offriamo due corsi di laurea, la laurea magistrale in giurisprudenza di 5 anni e la laurea triennale in scienze dei servizi giuridici. La prima è il percorso classico, destinato a chi vuole diventare avvocato, magistrato o funzionario nella pubblica amministrazione. La seconda, integrata con la prima, consente un più rapido ingresso nel mondo del lavoro. Inoltre da quest'anno offriamo un nuovo corso di laurea professionalizzante. Il corso di laurea in scienze giuridiche della prevenzione della sicurezza, unico in Italia, è organizzato in collaborazione con l'arma dei carabinieri. In tre anni prepara i futuri manager della sicurezza. Ai nostri studenti offriamo simulazioni e laboratori coordinati dalle forze di polizia e dai security manager per acquisire sul campo competenze criminologiche, investigative e tecnico-scientifiche. Studiare diritto a Pavia significa avere a disposizione una didattica a misura di studente, seguendo lezioni che favoriscono un rapporto diretto con i docenti e sperimentando forme di apprendimento che avvicinano anche alla futura esperienza professionale, come nel caso delle cliniche legali. Forte dell'esperienza degli Stati Uniti d'America, le cliniche legali hanno portato anche in Italia il principio del learning by doing, cioè dell'apprendere facendo. Oggi abbiamo tre cliniche, penale, immigrazione e diritti umani e inclusione sociale. Ciascuna di loro consente di dare allo studente uno sguardo oltre, un'esigenza molto cara al nostro dipartimento come molto cara è l'esigenza di internazionalizzazione. I nostri studenti possono scegliere tra più di 30 università straniere per il progetto Erasmus, possono ottenere una doppia laurea con l'Argentina, possono partecipare a competizioni di studenti alle quali partecipano squadre provenienti dalle università di tutto il mondo. Studiare a Pavia quindi è anche questo, prepararsi a un mondo del lavoro sempre più internazionalizzato. Internazionale, tecnologica, in continuo aggiornamento, la Biblioteca di Giurisprudenza di Pavia è ideale per studiare e per fare ricerca. L'Università di Pavia è sede in collaborazione con l'Università Bocconi di una delle più famose quotate scuole di specializzazione per le professioni legali, a cui si iscrivono studenti di tutta Italia, da Palermo a Trento. 18 mesi di formazione intensiva, ben 60 prove scritte per affrontare con fiducia il concorso di magistratura, l'esame di avvocato e i più impegnativi concorsi pubblici, ma soprattutto per eccellere nella futura professione. L'Università di Pavia offre anche la possibilità di approfondire specifiche materie, come nel corso di perfezionamento in diritto del lavoro, che da più di dieci anni attrae iscritti dal mondo delle professioni. Tradizione e innovazione si fondono, sotto il segno dell'eccellenza, anche nella scuola povese di dottorato in materie giuridiche. In questi anni abbiamo accompagnato e guidato nel proprio percorso di formazione post laurea nei vari settori del diritto, tanto pubblico e quanto privato, molti giovani studiosi, oggi diventati affermati protagonisti nel mondo della ricerca. A Pavia oggi giurisprudenza si studia e si insegna così.